Grazie 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 Iniziamo con la premiazione dei bambini Naturalmente il primo premio speciale Il primo speciale, e lo facciamo ad onore Lo diamo al piccolo Angelo Pio Galeone Bravo 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 Angelo Bravo 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 Remirà il piccolo Odone Iacobo Maria che è stato il primo dei bambini. Bimbi! Facciamo un attimino le foto? Ok, passiamo al secondo. Allora il piccolo Antonio Pio Moro. Qui? Marco Mandara. Vai Marco, vai! Naturalmente passiamo alle piccole femminucce adesso. Allora, la piccola Valentina Cannavacciolo. Brava! Seconda classificata è la piccola Giulia Pia Greco. La terza classificata è Asia Pignatelli. Tutti gli altri bambini non vadano via perché avranno anche loro un piccolo premio. Va bene? Aspettate un attimo, finiamo la premiazione degli adulti e dopodiché passeremo, ritorneremo di nuovo ai bambini. Ok? Non andate via. Metaglia d'argento. Secondo classificato Pietro Giorgio Gigantiero. Capriera! Gigantiero, non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo. Gira! Gira! E dai del bronzo Giovanni Anzoni. Dona Linda Bernati. Bernati, Bernati, Bernati. Gira! Girati! Foto! Anche l'olubro la fotografia! La seconda classificata è Daniela Raimonti. Senza offesa per alcuno. La terza è... Brava! E naturalmente la faccia si va. E' un'olubro la fotografia! Grazie! 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 Grazie!